Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. E incrementa di un punto percentuale per quelli che guadagnano fino ai 25 mila euro. I vantaggi in busta paga, dice la CGL, saranno molto scarsi e certamente insufficienti. Nel dettaglio, chi ha una retribuzione annuale dai 10 mila euro riceverà un beneficio mensile netto di 23 euro, che sono 7,69 euro in più di quello che ha avuto nel 2022 come beneficio del taglio del cuneo, e chi arriva a 25 mila euro invece è un beneficio di 41,74 euro, cioè 13,91 euro. Sono 14 euro in più rispetto a quanto ha avuto l'anno scorso. Lei mi dirà, vista la dimensione della coperta e la manovra, è già tanto, avete fatto tanto. Io le potrei obiettare che la manovra si poteva anche allargare andando a prendere altre risorse, non so, da un contributo straordinario di solidarietà. Oppure le posizioni in Parlamento, vi hanno detto, lavorando davvero sugli extra profitti delle compagnie energetiche. Avete fatto abbastanza con la manovra? Si sta surriscaldando sul nostro divano, è scomodo. Sì, infatti, penso che vi manderò un falegname per cercare di sollevare il divano. Per lei che è anche molto alto. Un po' disagiole, ma scherzo ovviamente, siamo benissimo così. No, dunque, ci sono anche qui... Grazie.